buongiorno kayak cari oggi parliamo di carico e scarico del kayak è un discorso abbastanza individuale perché magari abbiamo esigenze diverse e sicuramente più facile caricare un kayak sono utilitaria rispetto di un SUV o anche se una persona è alta 1,90 fa sicuramente meno fatica rispetto a uno che è alto 1,50 va a influire anche la nostra forma fisica come anche il tipo di kayak che abbiamo quindi dato che la mia macchina è stata tagliata con la motosega vi faccio vedere prima un carico laterale che quindi può andare bene per la maggior parte delle macchine e poi vediamo un carico posteriore se caricate dal lato della portiera per esigenze o perché preferite l'ideale è farvi una barra come questa tagliarla leggermente fissarla sul portapacchi e poi magari fai un buco oltracono da fissarla in modo che rimanga sempre lì fissa l'ideale credo adesso una barra rotonda e mettergli poi un salsicciotto in modo che rimanga ben ferma oppure se non volete metto il salsicciotto io uso un tappeto però ripeto questa prova qua la sto facendo per farvi vedere un carico laterale perché in realtà io carico da dietro quindi niente complicato si solleva si appoggia sulla barra si va dietro si tiene il kayak per sicurezza si va dietro si solleva si spinge leggermente in avanti e si gira il kayak è caricato quindi se avete una macchina lunga può essere una soluzione mentre per il carico posteriore ho preferito sagomare un pezzo di pulistirolo per le esigenze del mio tetto della macchina in modo che mi venga pratico caricare scaricare cosa importante leggermente più alto del portapacchi in modo che possa scorrere bene il kayak sopra e ovviamente è stato fatto facendo diverse prove man mano vai sempre a ritagliare a migliorarlo fin quando ti trovi bene e mi trovo benissimo utilizzando un tappetino io tappetino di casa che ho tagliato come vedete con la sagoma è perfetta perché mi permette di appoggiare il kayak rimane fermi con la posizione senza toccare il tetto della macchina quindi mettermi un pezzo di pulistirolo che si incassa perfettamente con la sagoma dell'antenna metto il tappetino metto il carrello così mi viene più facile scaricare a questo punto tiro indietro vedete che sposto tutto il peso sul polistirolo che rimane fermo col tappetino a questo punto sono a terra vado davanti vedete che rimane fermo senza problemi vado davanti sollevo e abbasso a terra mentre se non volete usare polistirolo in commercio vendono tanti accessori che si possono attaccare alla macchina per aiutare quindi dipende anche poi da quante grosse vostra da quanto è grossa la vostra macchina e da cosa preferite io personalmente ho fatto qualche attrezzatura che non ho più per caricare scaricare ma francamente mi trovo molto meglio col polistirolo un tappetino anche con l'altra macchina che era più lunga di questa per caricare basta prendere dalla maniglia sollevare spostare in avanti però io francamente non utilizzo mai la maniglia perché comunque vedete che poi devo distingere devo distendere comunque il braccio sinistro quindi non mi trovo particolarmente comodo ma preferisco mettere la mano nel gavone sollevare e tirare in avanti così in un colpo solo riesco a far tutto un altro metodo che uso a volte e questo quadramento fatto una maniglia che posso mettere nel foro dell'auto svuotante e questo mi permette di guadagnare un bel po' mi dà più margine quindi se avete un baule un po' più lungo con questo permette di arrivare un po' più avanti senza troppa fatica riguardo a questi supporti per caricare il kayak a ventosa francamente non mi ispira molto l'idea di metterlo sull'unotto e parlo per esperienza personale pur non fissando niente sull'unotto capita a volte che ti scivola un po' il kayak e picchi sull'unotto apparentemente non avevo nessun danno non c'era nessuna crepa niente di niente ma un giorno salgo in macchina e chiudo il portiere mi esplode l'unotto quindi francamente pensare di mettere una ventosa sull'unotto e poi ci appoggiate su un kayak che magari ovviamente non con il peso completo ma comunque a seconda del tipo di kayak che avete si appoggiate ogni volta 15 20 chili sull'unotto francamente non so quanto possa far bene quindi fate un po' voi le vostre valutazioni su come caricare scaricare io ho fatto vedere i due metodi più diffusi che potete trovare potete trovare anche altre idee facendo qualche ricerca su youtube cosa importante portapacchi originale è consigliato sempre usare cinghie omologate perché altrimenti è sempre pericoloso andar piano e se fate lunghe percorrenze legare il kayak sia davanti che di dietro dimenticavo io non uso supporti tipo questo ma semplicemente perché il mio kayak ho visto che rimane comunque avendo comunque uno scafo piatto rimane fermo senza problemi e soprattutto è perché faccio solo qualche chilometro e sono al lago altrimenti se dovessi fare una percorrenza più lunga sicuramente comprare supporti come questo che aiutano a tenere fermo il kayak anche se questo kayak in realtà non ne ha bisogno però aiuterebbero perché hanno una superficie d'appoggio migliore quindi non va a concentrarsi in pochi centimetri portapacchi perché è vero è vero che ho messo il salsicciotto ma non sono un granché è sicuramente migliore un supporto del genere quindi mi raccomando molta prudenza perché perderci un kayak può essere un enorme dispiacere ma se colpisce qualcuno lo è ancora di più in descrizione vi lascio il link di questi accessori che vi ho fatto vedere ma non sto consigliando nessuno di questi è solo per darvi un'idea di cosa c'è in commercio che può tornarci utile credo di aver detto praticamente tutto quello che volevo dire spero di essere stato chiaro e se avete apprezzato questo video sapete cosa fare e ci vediamo al prossimo video ciao ciao